E ciao a tutti ragazzi benvenuti qui in questo nuovo video bentornati qui su breakfast riprendiamo da dove ci siamo lasciati ovvero negli episodi dove andremo A testare una per una tutte le auto che sono state inserite tramite i DLC ma dobbiamo andare dentro con la schermata di gioco pronti per andarci a fare un evento personalizzato Anzi no in realtà no perché prima dobbiamo cambiare il nostro veicolo stavamo utilizzando nello scorso episodio il Vandal che abbiamo personalizzato in questo modo incredibile Pazzesco meraviglioso andatevelo a rivedere questo episodio se ve lo siete perso perché è stato incredibilmente pazzesco Allora altre auto la limusine no limusine già ce l'avevamo dobbiamo utilizzare il Cardinal che ha le sembianze appunto di un'auto della polizia Quindi ce la selezioniamo andiamo a potenziamenti vediamo se si può potenziare si può potenziare Ah addirittura classe D ma classe D mi sembra un po' eccessivo allora sappiamo che noi in realtà la manteniamo classe C quindi proviamo a potenziarla spendendo Pochi crediti ok ed è incredibile vedere come sostanzialmente potenziandolo l'unica cosa che aumenta è solo l'accelerazione Va bene ok allora andiamo per l'estetica abbiamo sicuramente tante cose da poter mettere Non vediamo assolutamente queste che sono da acquistare ma che tra l'altro sono anche standard ma anche se oddio questa qua è carina bianca Ma vediamo se ne abbiamo qualcuna di interessante tra quelle che abbiamo Gradis allora io le ruote aspetterei però perché voglio prima andare a vedere Le colorazioni cosa si può fare e poi in base a quello Oddio il taxi oddio possiamo fare il taxi Questa cosa potrebbe essere interessante assolutamente Il taxi ispira tantissimo potremmo quasi farlo il taxi della morte Però io lo farei così che ci mette sul tettuccio le strisce da corsa Perché così no così è troppo sportivo invece così è bello perché doppia colorazione ok Ovviamente io penso che il colore potremmo lasciarlo così ma nel caso il bianco Lo facciamo no assolutamente non nero perché ma se invece li li scambiamo Però se lo facciamo così con le strisce bianche scopriamo che in realtà sul tettuccio ci sono ma in realtà ci sono anche così Potrebbe essere sensato? Potrebbe essere sensato sì 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 vai 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 acquista Ok e torniamo a parlare di estetica a questo punto le ruote le lascerei normali Ok vediamo un po' di scarichi che questi qui sono quelli standard ovviamente anche se abbastanza carini Questo qua dove ci modifica anche il cofano questi perché gli scarichi io in realtà non li vedo Ok Ah ok in realtà questo qua è solo con il cofano ma con lo scarico normale Che non è affatto brutta come idea Beh questi scarichi diciamo che probabilmente sono sono un po' direi eccessivi Però io quasi questi ce li metterei ragazzi eh Facciamo facciamo un tipo taxi driver No al cofano lasciamo questo standard A lettone abbiamo a holy sheet questo da da race Anche se effettivamente questo qui può sembrare un pochino più carino Se vogliamo risparmiare un 200 credit mettiamo questo proprio che Eh vai 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 dobbiamo farlo aggressivo chi se ne frega Ecco magari mettiamo questo qui tanto costa poco è un pochino più sobrio Sì questa griglia frontale ha senso Vediamo sopra Questo effettivamente ha senso da taxi Tutto il resto poi è ovviamente un po' Ehm Fuori luogo direi Essendo un taxi holy sheet Ehm vabbè Ehm diciamo che Ehm è abbastanza eccessivo Potremmo anche eventualmente mettere le trombette O anche addirittura Ehm L'insegna da derby Però no dai ci mettiamo Il lampeggiante da taxi Questo qui Per 100 crediti E penso che ci siamo Dobbiamo vedere giusto eventualmente un pochino la protezione Anche se non vogliamo proprio Ehm Esagerare Visto che ci dà del peso Quindi no lasciamolo Lasciamolo stando e mettiamo giusto un roll bar Che mi sembra abbastanza impegnativo come roll bar questo Un roll bar più sobrio Ecco magari eh 800 crediti però Ma sinceramente 800 crediti Mettici questo va Sì sì Allora lo mettiamo stock E al posteriore invece Sì lo abbiamo già stock Tanto dietro non ci serve niente Perfetto 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 Dunque andiamo con un evento personalizzato Andiamoci a vedere subito che gara possiamo fare Allora io direi che Essendo appunto un taxi Magari una corsa Cittadina va fatta Perché insomma Capisci che Essendo un taxi I taxi corrono in città Vediamo quale pista possiamo fare Eventualmente questa Iniziamo con il Motor City Circuit Iniziamo la cardina Madonna ragazzi quanto E' aggressiva Mi piace Mi piace Tiene normale Veicolo Classe C Ehm Classe veicolo Classe C No devi mettere classe B Perché noi siamo classe B A meno che non mettiamo Ehm Da gara casuale No però poi potremmo avere Banger casuale O casuale Ma fai gara banger casuale Dai andiamo così Tanto Almeno ci divertiamo Di più Vai E' probabile che troveremo anche magari Veicoli Con Classe A Ma è proprio quello Divertente Perché se riusciamo a vincere facile Non è Non è bello Abbiamo Utilizzato le classi veicoli uguali Solo quando abbiamo utilizzato Le auto a scontro L'auto L'ho settata in questo modo Con sospensioni rigide Appena un pello Differenziale Bilanciamento dei freni Aperto E sul posteriore Trasmissione standard Ok Possiamo iniziare Ok Uuu Eccola qui Il nostro Tassista Psicopatico Che va Incredibile Attenzione Qui è la prima curva Che c'è sempre Si crea Subito traffico Attenzione Insinuati Il tassista Psicopatico va Eh ma i primi davanti Là Già li vedo Che se ne sono belli Che andati Attenzione Boom Mieve toccatina Leva di tec Orca puttana Non è successo Un macello Vai 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 No 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 Ma lasciami andare Questi sono ubriachi Guardali 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 È ubriaco Ma signore Allora Ma le sembra Le sembra il caso Intanto il primo Ha nove secondi Staccatona da panico Del tassista Psicopatico Vai così Con quelle curve No stanno qua davanti Però stanno qua davanti Dai non è impossibile Io la pista Devo anche ricordarmela Porco schifo E niente Abbiamo un pochino Un pelo sgrattugiato Ma va bene così Cerchiamo di Non perdere No Tirato la staccata Troppo Esageratamente È vero Questa Questa pista È vero Non ricordavo Avesse queste curve Molto Difendi Difendi la traiettoria Eh ma Il primo Il primo se n'è andato 14 secondi 5 giri Da dover fare Abbiamo tutto il tempo A nostra disposizione Per poter recuperare Semmai No Stavo dicendo Se si possono dar battaglia Probabilmente Abbiamo più opportunità Di recuperare Ma Vedo che il primo Rispetto già al secondo Gli ha dato Abbastanza la paga Cerchiamo di Prenderci il podio E intanto Attenzione La boomer Tenta il decollo Aiutati Aiutate un po' Da noi Attenzione Guardalo Guardalo Questo taxi Come Come si destreggia Bene tra le curve Tutto sta nel capire Bene come Impostarle Se sorpassiamo Questo Siamo in top 5 Però I primi davanti Sono molto staccati Non troppo Ma Il bilanciamento Freni al posteriore Ci Rende l'auto Un pochino Meno stabile Sul posteriore E ci permette Eventualmente Anche di girare Un pochino Meglio Guardalo 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 Il tassista Come va Dobbiamo fare Una guida Una guida Concentrata Occhio Attenzione Attenzione Guardalo Boyez Mortacci 2 E là Cazzo Guardalo 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 E Non è vero Attenzione Non è successo niente Non è successo niente Non è Orco 2 Grazie della spinta Eh niente abbiamo perso lo spoiler Oh che è successo qua C'è un tizio morto Ma non è Non è uno di quelli là davanti Holy shit È Garabanger così Praticamente i primi Levali dai coglioni Eh Al cazzo Vai Speronamento Holy shit Abbiamo fatto un carpiato Leggendario lì Guardali dietro Come arrivano di gran carriera Secondo me Appunto mettere Classe Banger Casuale Attenzione Troppo Guardalo Guardalo Ma quella che è Il caro Guardalo Quello dietro È morto Ma Cos'è un caro funebre Questo qua davanti Attenzione Eh Eh niente Eh niente È difficile Ahia Guardalo Guardalo come si Come si Insinua Eh no Garabanger Con Qualsiasi Livello di veicolo È È troppo Esagerato Secondo me Anche perché Guarda Ci ha dato 30 secondi Eh Sì Sono auto Decisamente Più potenti E attenzione Lo pitta E attenzione Li manda lunghi Li utilizza per Per girare Il tassista Psicopatico Il tassametro Corre Guardalo To terror tail Mortacci Dua E se ne va Lo manda contro le barriere Vai 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 Almeno sick boy Occhio qua la macchina Che porco Schifo All'interno All'interno Bene così Bene così Attenzione Guardalo 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 che vuole insinuare Eh sono più veloci di noi Ragazzi Ci mangiano in velocità Eh sì Io l'ho mantenuto Da classe Classe B Ma Mamma mia E lo manda via Non è vero In realtà L'ho rimesso dritto Brutta storia Brutta manovra Da parte nostra Mette in terza Esterno Interno Incrocia la traiettoria Il tossico E io Non freno E lo mando via Mentre anche gli altri Stanno arrivando Ormai Perché noi stiamo Battagliando Guardalo come si destreggia Con un lieve tocco Di freno a mano Mentre qui poi In velocità Ne risentiamo E se ne vanno Non passerete mai Leggi di questa Non è vero Volevo fargliela leggere Ed invece Ha trovato il pertugio Laterale Sinistro Attenzione Qui davanti Perché inizia Intanto L'ultimo giro L'ultimo giro Lieve Spintonamento Vai così Tira la staccata Stiamo Ah ma siamo Sesti E' vero Siamo sesti Quindi stavo per dire Stiamo mantenendo La La quinta posizione Con lo stremo Delle nostre forze Ma in realtà No perché Siamo sesti Quindi Una curva che Arca puttana Non riusciamo a fare Proprio niente Un pezzo di merda E niente Guarda il vincitore È arrivato adesso Noi siamo a metà giro E niente Abbiamo perso Anche la sesta posizione Eeeh Arca schifo Ho provato Ad andarlo a prendere E vado ad arcarlo No Levati Affa culo Pezzo di merda Ok Settima posizione L'abbiamo presa L'abbiamo presa Così purtroppo Potevamo andar meglio Ma I veicoli avversari Erano Decisamente Troppo più forti Che noi Dobbiamo Dobbiamo regolarci Un pochino Con guardali là La boomer La boomer In questo veicolo Si destreggia Facilmente Io a questo punto Mi farei una gara Qui al big Valley speedway Che anello va all'esterno Dove dovremo fare avanti e indietro E sarà interessante Vedere come Come ce la caveremo Sempre cinque giri Gara banger Banger casuale Mettiamo classe B Almeno Siamo sicuri di avere Con la nostra stessa classe Il che non è affatto male Allora metto il bilanciamento Allora metto il bilanciamento Allora metto il bilanciamento Allora metto il bilanciamento Dai freni Un tocchino più Verso il centrale Eh si Abbiamo auto Più o meno Dello stesso livello Adesso Quindi Nice Così Bene 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 Perfetto Possiamo iniziare Questa gara Dove ci sarà Il devasto Più totale E si va Vai così Taxi driver Vai così Crazy taxi Ah subito così Attenzione all'interno Attenzione all'interno Che tendiamo un po' A derapare Vai 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 Girala 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 Intanto lì Quello si è schiantato male Ok Tanto sappiamo benissimo Che andare avanti adesso Potrebbe essere anche un problema Perché lì dietro Poi quando torneremo A girare Sicuramente succederà Il macello Guardala come va di traverso il taxi Anche solo girando Senza freno a mano Mettila in quarta però In seconda Vai vai Freno a mano Prendeteli Prendeteli E Boh Non è vero Si sono salvati What How it's possible This Vai dobbiamo andarci a prendere Solo secondo Che effettivamente è secondo E Zachary Scendo uno Vai 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 La driftiamo Un secondo Non è vero mai Quello dove stava A scampia E niente Solo secondo Passa in testa Qua dobbiamo iniziare a Oh Dobbiamo iniziare a far Incrociare qualcuno Dobbiamo iniziare a Creare dei botti Perché altrimenti Qui Non se ne esce Vicini Per poterlo Aia Vai 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 Passa all'esterno Dove va Dove va No no Gira 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 Attenzione Che succede Siamo sempre secondi Terror Tale È quello di prima Porca puttana Comunque è un rischio clamoroso Ma non sta succedendo niente Di che Ok Qua bisogna trovare Boom Eh vatti dai coglioni Piano però Piano 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 Che arrivano gli altri Ok Ci siamo presi La prima posizione Di forza E niente ragazzi Questa gara Si sta per andare A concludere Mi aspettavo Qualcosa di più Movimentato Ma a quanto pare Non è successo Questo Ce la siamo vinta In modo anche facile Ok Allora Io A questo punto Mi faccio anche Una gara Sosterrato Traviamoci qualche Qualche circuitino Interessante Vai andiamo al Veilfold circuit Che qui non abbiamo mai fatto Nessuna gara Eh Manteniamo sempre Appunto Classe B Eh Queste Queste Si Tutti questi setting E andiamo Adesso vediamo un attimo anche Le sospensioni Perché le avevamo rigide Qui penso che dobbiamo Ammorbidirle un pelo Ok Allora vai Pronti a partire Si parte sull'asfalto Ma che cazzo Ah ok Ah ok Si parte di qua Ci si mette sul 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 tracciato Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Ok Attenzione Iniziamo a destreggiarci Proviamo Ad insinuarci Vai Insinuati Oh Incredibile Madonna Eh Diare il macello L'ingorgo 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 Ehi E basta Veniamo andando Eccolo Creve Injection Ah Carlo Boo Cerchiamo Cerchiamo di non Perderci Già i primi Perché Almeno proviamo A fare una lotta Almeno A divertirci Un pelo Vai 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 In accelerazione In accelerazione Un tempo ce la facciamo Giro 2 E geniziano Secondo giro Holy shit Ma è una pista cortissima Ah Carlo però Dai su Levatevi Occhio Gredisci il cordolo Forse un po' troppo Va bene così però Metti in seconda Stringila Vai 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 Pennellate Dai che lottano Dai che qua davanti Soler Sailor Moon Paraidu Oh Lottano Io per leggere i nomi Mi sono andato a frantumare però Non è Una buona cosa Che tra l'altro Hai esailur Aia Ha praticamente la Ford Mustang Mach 1 Vai però Vai andiamola a prendere Chiaramente lei Grazie Madonna mia Quanto è stato Gentile Sir Ho provato ad insinuarmi Per Per inserirmi In curva Ma Non ce l'abbiamo fatta Metti in terza Vai Falla scorrere Comunque camminano Questi anche Eccola qui A contatto con la Mustang Devi girare però La curva è a sinistra Testa di abbacchio Che Paraidu Là se ne va Affanculo La prossima volta ti impari A metterti in mezzo ai coglioni Uh Dai che ci sono dei doppiati Oh È successo un macello Qui davanti No Paraidu Però è passato Non mi dica Paraidu È riuscito a passare Com'è possibile Guardali questi Che stanno creando Il panico Mortacci E niente Paraidu È riuscito a passare Non so come Madonna abbiamo Meno di un giro Per andarcelo Cioè no Meno di un giro Un po' più di Un giro Vai 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 Accelera 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 È qui davanti È qui davanti Ma si fa fatica Si fa fatica Quest'auto Tutto sommato Non è un granché È abbastanza Discutibile Perché poi Drifta Che clamorosamente Clamoroso In qualsiasi modo Ma basta Driftare Dobbiamo girare Eh niente Non ce l'abbiamo fatta Arriviamo secondi Paraidu La va a vincere Abbiamo fatto Una vittoria Soltanto in queste tre gare Un secondo posto In quest'ultima È la prima gara Che è andata Veramente male Perché abbiamo Utilizzato una difficoltà Troppo alta La Stellar Mortacci sua però Era Veramente forte Veramente forte Va bene Ladies and gentlemen Dunque io vado a concludere Qui questo episodio Dove abbiamo provato Questa nuova auto Nel prossimo episodio Noi ci vedremo E ci diletteremo A provare Un'altra Delle auto inserite Con il DLC Quindi io vi invito A lasciare un like Un commento E di iscrivervi Se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo Da un prossimo episodio Di breakfast E ci vediamo Da un prossimo video Sempre qui ovviamente Sul mio canale Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.